Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della nostra regione, anche in chiave turistica, perché il cluster della cultura è una delle domande primarie che il turista italiano e straniero rivolge alle Marche quando decide di orientarsi verso la nostra regione. È stata questa la chiave di lettura della partecipazione delle Marche, regione ospite alla 32esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha chiuso ieri l'esposizione. Un metro di lettura che è emerso chiaramente dagli incontri e dalle presentazioni che si sono susseguite allo stand istituzionale. La sensazione che si è percepita, come ha avuto modo di sottolineare il sovrintendente del Teatro Reggio di Torino, William Graziosi, è che le Marche sono culturalmente potenti e molto note nel mondo della lirica. D'altronde, salendo e mirando lo stand istituzionale, come recitava lo slogan che accoglieva i visitatori, ci si imbatteva subito in Leopardi, che con il bicentenario del Manoscritto dell'Infinito si proponeva come testimonial delle Marche, all'interno di un trittico delle Meraviglie, rappresentato lo scorso anno dal 150esimo della morte di Gioacchino Rossini ed il prossimo dai 500 anni dalla morte di Raffaello. Sono tre grandi personalità che hanno permeato l'identità della terra marchigiana, che a Torino ha saputo presentare il meglio di se stessa nel campo editoriale. «Essere stati presenti in questi contesti culturali in modo dinamico e attivo è sicuramente risultato un'operazione di immagine molto forte», ha affermato l'assessore alla cultura e turismo Moreno Pieroni. Ora l'attesa è che una ricaduta significativa del turismo culturale sul territorio. Una visaglia c'è stata già con le due puntate televisive RAI di Meraviglie d'Italia di Alberto Angela, dedicate alle grotte di Frasassi e al Palazzo Ducale d'Urbino. Il flusso di visitatori ha subito registrato un picco crescente. Dal momento che le iniziative del bicentenario leopardiano non sono terminate a Torino, ma tutto il 2019 sarà dedicato al sommo poeta recanatese, l'attesa e l'auspicio della regione sono rivolti al turismo acculturato. Secondo gli organizzatori torinesi, il Salone ha registrato 150.000 visitatori. Presso lo stand delle Marche, la regione ha alternato più di 200 relatori, con presenze significative, come quelle di Massimo Cacciari e Vittorio Sgarbi. Il desk promozionale ha raccolto oltre un migliaio di richieste, con una preferenza riscontrata per informazioni culturali e turistiche.